Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Intanto arriva la decisione sulla terza dose. Spazio poi alla cronaca. Puzzuoli i carabinieri hanno arrestato un'intera famiglia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Torniamo a Torre del Greco. Un professionista sempre al servizio della gente. Nelle parole di Luca Chius, il segretario cittadino della CGL, il dolore e il ricordo dell'amico e compagno Enzo Porzio, prematuramente scomparso. Ancora siamo a Torre del Greco per parlare di una nuova iniziativa di solidarietà della protezione civile in collaborazione con TV City. Abbiamo parlato con il responsabile Paolo Belfiore in chiusura allo sport con la Turris, vittoria in trasferta per i Corallini, la prima del campionato. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Continuano a migliorare i numeri dei contagi a Torre del Greco. Infatti sono solo tre le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19. Nell'ultime 72, invece, sono tre i positivi certificati. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 100 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Intanto riguardo la terza dose di vaccino è arrivata la conferma anche dal ministro Roberto Speranza. La terza dose in Italia ci sarà. Partiremo sicuramente già a settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, la AIFA, convocato in via d'urgenza, ha approvato all'unanimità l'utilizzo di una dose aggiuntiva di vaccino contro il Covid. La terza dose riguarda soggetti con immunosoppressione grave, quali ad esempio trapiantati, oncologici, dializzati, oltre che gli anziani over 80. Per il personale sanitario, invece, il richiamo è previsto solo in condizioni di particolare esposizione al rischio. Per le tempistiche, il nuovo richiamo dovrebbe essere somministrato almeno 28 giorni dopo la seconda dose per i soggetti con immunodepressi e i trapiantati. Dopo, invece, almeno sei mesi per le altre categorie. In Lazio le somministrazioni della terza dose di vaccino cominceranno già questa settimana. Ieri, infatti, il governatore della regione, Nicola Zigaretti, ha annunciato sui social Il Lazio parte con la terza dose di vaccino. Dalla prossima settimana iniziamo con chi ha ricevuto un trapianto e che saranno contattati dal sistema sanitario regionale. Continuiamo a mettere in sicurezza la vita e il futuro. Il 13 settembre 2021 i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica a carico di quattro indagati, padre, madre e due figli maggiorenni, ritenuti gravemente indiziate a vero titolo in maniera continuata in concorso tra loro di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack. Per due indagati è stata applicata la misura carceraria, mentre per altri due è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. L'attività investigativa svolta dalla stazione Carabinieri di Monte Ruscello ha consentito di individuare una continua attività di spaccio presso l'abitazione degli indagati, riscontrare plurime cessioni di stupefacenti nei confronti di numerosi acquirenti dell'area fregrea segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Napoli e sequestrare la somma di 20.700 euro ritenuta a provento dell'illecita attività, nonché 161 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack. L'attività investigativa, condotta anche con l'ausilio di telecamere installate presso l'abitazione degli arrestati, iniziata nei primi mesi del 2021, si è conclusa nello scorso mese di maggio. Negli studi di TV City, Luca Chius è il segretario cittadino della CGL. In questi giorni la CGL, ma tutta la città di Torre del Greco, perde una grande persona. Enzo Porzio, un grande professionista, sempre disponibile e gentile con tutti, una persona per bene. Abbiamo visto sabato ai funerali, c'è stata una partecipazione con grande forza, perché hanno testimoniato la vera forza che quel mio caro compagno aveva, ha avuto e continuerà per noi ad avere, perché poi perdere un compagno, più che un compagno, un amico, e sapere la propria professionalità, perché capire il ruolo che Enzo svolgeva, guarda, non è da tutti, la professionalità in cui lui faceva le cose, e con l'impegno e soprattutto anche nei nostri confronti, delle volte con rigidità, cercava di far capire che una cosa era l'amicizia e una cosa era il lavoro che lui svolgeva. Per quanti anni è stato funzionario della CGL? Enzo è stato assunto nel 1980, giù di lì, se voglio dire. Ha avuto un percorso tra Napoli, poi fu trasferito a Cavalleggeri da Osta. Su Torre del Greco noi avevamo un vuoto, eravamo la cenerentola di tutte le questioni che riguardavano patronato, informazione, sindacalizzazione, politica e quant'altro. In quel caso là venimmo a sapere di questo compagno che era di Torre del Greco e che stava a Cavalleggeri da Osta. In quel caso la facevamo una forzatura, se volete, nei confronti della CGL di Napoli, cercando di farci venire il compagno Enzo Porcia, ma non sapevamo ancora della sua professionalità. Però il nostro obiettivo era cercare di allargare il raggio di azione sul territorio. E stante per il 1985, 85, 86, giù di lì, riuscimmo ad avere questa fortuna. E da lì è iniziato tutto il nostro percorso, perché poi da piccola cenerente la quale era Torre del Greco, grazie all'impegno di Enzo che ha messo in gioco e metteva in gioco tutta la sua professionalità, si è incominciato ad allargare il raggio di azione. Tante battaglie sul territorio, ne ricordiamo qualcuna? Sì, ne ricordiamo tante. Ricordiamo la firma per il referendum che la CGL i quattro si messe in campo, dove lui con grande forza riusciva a determinare le firme, a raccogliere firme e quant'altro. Ma poi sul piano politico, la partecipazione delle iniziative che abbiamo fatto anche sull'ospedale Maresca, che tu ricordi. Ma tante di quelle iniziative, Enzo non era solo un punto di riferimento del padronato, ma era un punto di riferimento della CGL, della Camera del Lavoro di Torre del Greco, che grazie anche al lavoro che ha fatto lui, oggi siamo diventati la Camera del Lavoro di zona. Cioè significa che abbiamo responsabilità politica, iniziando da Torre Annunziata a finire a San Giorgio. C'è stato un impegno, soprattutto suo, che ci ha consentito oggi di camminare a testa alta e di dire professionalità, gentilezza, risolvere i problemi, portare avanti le questioni, riservatezza sugli atti. Sempre al servizio della gente per anni nella sede di Via Martiri d'Africa. Abbiamo lavorato tantissimo a Martiri d'Africa, veramente con forza. Abbiamo avuto la fortuna, quattro anni fa, grazie a lui che ha voluto con forza pure questa cosa, tante persone invece insieme a noi a trovare una nuova struttura. Stiamo a Via Vittorio Veneto con tutta una serie di attrezzature oggi all'avanguardia. Noi continueremo sicuramente con lo stesso lavoro che sarò io, che imporrò a chiunque verrà, di fare continuità rispetto a quello che Enzo faceva, solidarietà rispetto a quello che faceva Enzo. Tutte quelle cose che voglio dire alla fine oggi ci rendono tristi, ma che dobbiamo affrontare con la vita. La grande partecipazione sabato ai funerali è il segno tangibile del tributo che non solo la Cigelle, ma anche le autorità presenti sul territorio hanno voluto dare ad Enzo. Penso che è il minimo che potevano fare, è il minimo per un compagno che sottore del greco era realmente, ed è per noi ancora rimane, un punto di riferimento reale. Fare questa intervista a me costa moltissimo perché io ho l'esigenza di ricordarmelo in modo diverso. Cosa le mancherà di più dell'uomo e del professionista? Tutto, 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 tutto. Dopo le sei facevamo quella famosa riunione della giornata e ci incontravamo di più, del meno. Voglio dire, lui, e parlavamo delle questioni che potrebbero, si dovrebbero fare per incentivare di più la nostra organizzazione. Mentre discutavamo tutte le sere, manca a farla apposta, alle sei, un quarto veniva il solito dizio «Oh, signor Enzo, meno male che state qua, vi devo chiedere, Enzo, una santa pacienza». Diceva «Vabbè, ditemi perché stiamo parlando di cose serie, di cose dell'organizzazione». E tutte le sere erano queste, però posso dire che a me manca questa. Da domani in poi, voglio dire, alle sei, che faccio? Devo aiutere. Sicuramente ci saranno delle battaglie giornaliere per cercare di mantenere quell'equilibrio che lui e che noi avevamo costruito. Però ci dobbiamo, proprio per la sua memoria, ci dobbiamo credere. Tanto è vero, proprio per la sua memoria, io personalmente come responsabile territoriale già ho chiesto alla Camera del Lavoro e alla CGL regionale di fare delle iniziative tese al ricordo del compagno, perché quando uno merita, a prescindere, merita, merita. Poi io mi domando sempre «Ma come si fa questo?». Ancora noi stavamo, discutavamo e dicevamo «Ma come è possibile che questo mi ha lasciato e se ne aiuto?». Paolo Belfiore, dopo l'iniziativa di raccolta di indumenti per i profughi dell'Afghanistan, è in programma una nuova iniziativa di solidarietà, questa volta per il territorio di Torre del Greco. Sì, allora noi dopo la raccolta che abbiamo fatto per i profughi dell'Afghanistan con la protezione civile regionale e nazionale, abbiamo raccolto tanti indumenti, però purtroppo la normativa Covid ci imponeva di prendere indumenti, anche se erano lavati, puliti, di cui io voglio ringraziare con il cuore i nostri cittadini, con i cittadini di Torre del Greco, che si sono praticati tanti, e abbiamo voluto prendere solamente indumenti etichettati con l'etichetta, di cui abbiamo consegnato alla protezione civile, che poi è stato portato a destinazione. Però ci siamo trattenuti tanti indumenti portati dai nostri concittadini, che in collaborazione con la televisione locale, noi faremo una nuova iniziativa, li distribuiremo alle parrocchie, alle chiese. Attraverso i nostri canali andremo dunque ad informare la cittadinanza su dove e quando potrà ritirare questi indumenti. Esatto, siccome sono rimasti tanti indumenti ancora in deposito, che hanno portato i cittadini, in collaborazione con TV City, abbiamo in programma con le parrocchie locali, poi vi aggiorneremo attraverso la televisione, per poter distribuire questi indumenti rimasti ai nostri concittadini. La Turris espugna lo stadio Zaccheria di Foggia e conquista così la prima vittoria in campionato. Le squadre si affrontano a viso aperto, in linea con le idee di gioco e mentalità dei due tecnici Caneo e Zeman. I Coralini partono bene con due azioni pericolose al primo e al tredicesimo minuto con Santaniello, che arriva al tiro grazie all'iniziativa del tridente composto con Gennone e Leonetti. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi con i classici dagli del 4-3-3-0, e Maniano, ma ben assorbiti e controllati dal trio difensivo Lorenzini-Manzi esempio. A 42esimo minuto finalmente la prestazione della squadra di Caneo viene premiata, grazie all'ennesima azione d'attacco con Santaniello, ottimo nella doppia funzione di terminale offensivo e regista avanzato, tirandosi fuori dalla linea difensiva foggiana, creando spazi dove si è inserito egregiamente Tascone, che con un diagonale ha trafitto il portiere foggiano a lastra. Nel secondo tempo il tecnico Boemo nei primi minuti cerca di sovvertire l'andamento della gara, con tre cambi e ci riesce parzialmente collezionando un paio di ghiottazioni da rete neutralizzate dal portiere Corallino Perina. Al sedicesimo minuto di partenza fulminia della Turris, Giannone serve un assist al bacio per Santaniello, che mette la palla in rete per lo 0-2 che si gira la prima vittoria Corallina e che porta la Turris a quattro punti dopo tre partite. Il match si spegne con pochi sussulti da una parte e dall'altra, grazie alla prestazione di una Turris autoritaria, audace e bilanciata. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione chiocciola tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti.